Due parole su Giorgio Muratore. Mi ha dato la possibilità anche di uscire fuori dal tran tran accademico che in quel momento mi era un po' insopportabile, restando però dentro la disciplina e non all'esterno come invece tanti altri amici e studenti facevano in quegli anni. Mi ha permesso quindi di fare quella piccola rivoluzione personale autorizzandola in un certo senso. Lui che aveva già chiaramente un curriculum, che era già un professore, che era già uno scrittore, che era già anche un archietto che aveva lavorato ad altre riviste, lavorava ad una rivista importante come Casabella. Quindi immagini lei per un giovane studente era come dire sei autorizzato perché lo dico io a fare quello che fai e quindi questo è il ricordo più bello. Come ho detto prima sarebbe bello se trovate prendere un fotogramma del film con Belushi Chiamami Aquila e metterlo accanto a questa foto. Questa foto è bellissima ma messa vicino alla foto di Belushi diventerebbe virale. Grazie.